Pretendono sicurezza e per fare in modo che questo accada occorre un pronto intervento. A fare la voce grossa da qualche anno a sta parte sono alcuni residenti di una palazzina di Montelabati in via Ninobixio, che ogni volta che un temporale si imbatte contro quella zona si trovano in grandi difficoltà. Le tubature del tombino presente sul suolo pubblico sono completamente intasate e quando ci sono forti precipitazioni l'acqua piovana defluisce nello scolo che porta il tombino di fianco, vicino all'abitazione. Un intasamento delle camere di sedimentazione che genera un allagamento lungo il passaggio residenziale, rendendo impraticabile la percorrenza a piedi. Sono circa tre anni che ci si allaga, quando fa pure poca acqua ci viene tutto nel nostro passaggio e va a finire nei garage. La gente, noi con inguilini dobbiamo uscire con gli stivali, anche con poca acqua, bisogna uscire con gli stivali perché c'è un'altezza di 4-5 dita d'acqua nel via. Quando ha fatto il temporale forte, quella notte a metà agosto, nei garage si erano raccolti 10 cm d'acqua, si è allagato, sono stato tutta la notte per buttarla via. Ho segnalato di nuovo, mi hanno detto che si ricordavano, che avevo segnalato anche l'anno scorso, però ha mandato il tecnico l'anno scorso, però provvedimenti non ne sono stati presi. Quando piove stiamo sempre con la paura, ci sono i signori che abitano sotto, che rischiano che l'acqua gli entra in casa. Se arriva un temporale forte, gli entra l'acqua in casa. Un'altra preoccupazione che turba i residenti è rappresentata dalla pianta a fianco della loro abitazione, che oltre ad aver causato con le sue radici un dissestamento della strada, pende vistosamente verso la palazzina. Io guardando la televisione, quello che sta succedendo nei vari posti che cadono gli alberi sulle macchine, sulle persone, questa pianta così inglinata, grande com'è, se si abbatte sulla nostra casa, siamo dentro, ci ammazza perché è proprio grande, e poi è inglinata con un marcio, con il marcio che si vede proprio sotto. Quindi, a mio modesto avviso, non è caso. Io ho chiamato tutti, pure la protezione civile, hanno fatto una piccola potatura, però non è stato, cioè un provvedimento serio non è stato preso. Questo se fa una forte tempesta ci viene addosso. Mi hanno detto addirittura che pure che si inglina ai 45 gradi, non la batteranno sicuramente. Quindi, cioè, solo quando si abbatterà da sola addosso a noi sarà tolta.